La nuova ordinanza numero 85 del 26 ottobre 2020 contiene misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da covid-19, in particolare sui temi della scuola, della mobilità e delle attività di ristorazione. Questi principali punti, 1 all'infuori di nidi e asili da 0 a 6 anni, vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e gli alunni diversamente abili, già adottate con ordinanza numero 82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle università. 2. Confermato il divieto di mobilità interprovinciale, ferma la forte raccomandazione contenuta nel DPCM del 24 ottobre a non allontanarsi dal territorio comunale, se non strettamente necessario. 3. Per le attività di ristorazione e di vieto di asporto, salvo che gli esercizi con consegna all'utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto, consentita la consegna a domicilio con partenza dell'ultima consegna alle ore 23 e rinvio. Per il resto, alle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020. 4. Confermato l'obbligo di rientro a casa entro le ore 23, secondo quanto recentemente disposto d'intesa con il Ministero della Salute. Infine, il punto numero 5. Confermata l'attività di jogging la fascia oraria nelle ore 6, 8 e 30. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre, data nella quale l'unità di crisi effettuerà nuove valutazioni sulla base dell'andamento epidemiologico che sarà stato registrato nel contesto regionale e locale. È stato dato mandato all'unità di crisi di valutare insieme all'Anci, entro il 28 ottobre prossimo, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti 1 e 2 novembre.